Spendere i soldi per fare un'aria per le feste, 200 mila euro per fare un'aria per le feste, perché non li usano per sistemare le case popolari che hanno? Ne hanno 72. Questo anche per gli altri cittadini di Gallarate che aspettano la casa. Ci sono 72 case e il signor sindaco ha 200 mila euro da spendere per fare un'aria feste al posto di mettere a posto le 72 case. Non dico che con 200 mila euro si mettono a posto 70 case, ma penso che un 7, 8, 10 case si riescono a mettere a posto. Le vostre famiglie che vanno in casa d'emergenza sono entrate sulla base della graduatoria esistente? Certo, mi dispiace per gli altri cittadini di Gallarate, ma siamo passati tutte 17 famiglie avanti in graduatoria agli altri che erano in lista, perché vuol dire che non abbiamo niente, non abbiamo soldi, non abbiamo niente, viviamo la giornata come tanti altri cittadini di Gallarate. Purtroppo oggi come oggi si vive la giornata, vai a lavorare per mangiare, non per mettere da parte, giusto per mangiare. Vuol dire che non avevamo niente se siamo passati avanti a tutti.